direi che siamo pronti grazie a tutti per essere con noi oggi siamo insieme per presentare un webinar secondo noi di Intesis particolarmente innovativo rispetto al tema della gestione dei partner dei venditori e dei distributori perlomeno nel nostro paese si stanno unendo a noi anche gli altri due miei compagni di viaggio che tra poco introdurrò siamo quindi molto contenti come Intesis di presentare una soluzione di digital marketing e partnership management quindi molto molto legata al tema sales di valorizzazione del ruolo dei venditori e distributori nelle filiere di vendita che riguardano principalmente le aziende che rappresentate come fattore comune sicuramente avete il fatto che i vostri canali di vendita sono intermediati e quindi avete manifestato un interesse nei confronti di uno strumento che è particolarmente nuovo per il mercato italiano questo è il primo webinar che viene fatto e la soluzione è stata scelta all'interno di una pletora di soluzioni a livello europeo e mondiale avendo però poi in qualche modo scelto direttamente la partnership con Marketing Express e Gorilla Corporation con i miei due compagni di viaggio Carlo e Martin Ciao Carlo, ciao Martin Ciao, buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti Ciao Martin Ciao Alessandro Buongiorno Thank you very much Carlo è a San Francisco Martin è in Olanda ci hanno sostanzialmente privilegiato della loro presenza attraverso la realizzazione di un video di spiegazione e di approfondimento rispetto al contesto internazionale in cui i partner relationship management in questo caso partner pulse che è la soluzione che in qualche modo stiamo veicolando insieme in Italia sono stati utilizzati e sono utilizzati per boosterizzare da una parte la performance dei partner di vendita di vendor o aziende manufacturer o vendor di servizi quali ci auguriamo voi rappresentate nelle vostre funzioni di marketing e sales e raccontandoci un pochino quella che è l'esperienza da una US perspective una prospettiva americana e da una European perspective quindi una prospettiva europea Carlo e Martin sono sostanzialmente una joint venture della stessa azienda rappresentano la soluzione dal punto di vista commerciale e tecnico e sono sostanzialmente le persone che Intesis ha scelto sostanzialmente per collaborare su questo progetto commerciale molto molto interessante abbiamo registrato il webinar perché abbiamo voluto farlo in lingua originale per permettere a loro di manifestare al massimo la loro competenza sottotitolandole e permettendo quindi poi successivamente a tutti voi di ricevere il video oltre ad una breve survey che vi permetterà di condividerlo al vostro interno e di rivedere i passaggi salienti quindi a questo punto diamo la parola a Carlo rispetto a un passaggio legato all'importanza delle partner relationship management nel contesto internazionale il caso Gorilla Corporation in US ci sarà poi Martin che ci racconterà il prodotto e la contestualizzazione del mercato europeo di questi dieci anni e successivamente tre case molto molto concrete su cui ha avuto modo di lavorare in questi ultimissimi anni e poi avremo un'overview italiana di come questo strumento possa contestualizzarsi nel nostro mercato nelle vostre necessità cercando di portare dei risultati diretti a quello che poi è il business delle vostre aziende direi che siamo pronti a partire here we go the technology required to put in place a channel can often seem confusing and sometimes overwhelming in such a nascent field terms and acronyms are sometimes used interchangeably and inaccurately create more confusion the technology required to run an indirect sales and marketing organization can be categorized in four distinct areas partner relationship management also known as PRM co-marketing platforms or through channel marketing automation which is the correct term TCMA as it is known in the industry MDF platforms for managing marketing funds and finally rewards and incentive platforms part of the confusion arises from the fact that any or all of these technologies can be referred to as a partner portal and novices coming into the channel end up not really knowing what to buy and sometimes implementing the wrong solution the benefits of implementing these technologies are that they enable the vendor to grow their partner business in a way that is confident predictable and scalable across regions PRM is a variation of CRM but designed with partners in mind within the context of indirect selling some of the key aspects of PRM have the access vendor collateral as well as having the ability to register a deal so many buyers have been investing in fully fledged PRM solutions just so as to be able to register partner deals deal registration is when a partner secures the rights on a deal or opportunity and safeguards it from other channel partners or from the vendor taking the deal directly this process wins the partner greater security as well as an increased margin for the vendor the benefit is pipeline visibility and in some cases also the opportunity to help a partner win the deal PRM nowadays however goes so far beyond these basic features today PRM enables channel managers to be able to take a partner through the full journey from being recruited into the partner program to helping the partner get the required orientation the enablement the certifications and appropriate sales and marketing support many PRM companies furnish all components within their package however not all do everything equally well more often than not vendors that have done their due diligence will end up buying the right software platform for each specific function and it is not unusual to have a major vendor that has several SaaS contracts with specialist suppliers for each of these specific functions MDF platforms are software platforms specifically designed to manage the process of marketing funds the requests approvals and disbursements they typically handle traditional rebates and co-op funds as well as discretionary MDF funds discretionary MDF funds is the more common approach to MDF these days and the two things are not mutually exclusive if you can have both the MDF and the rebates approach rewards and incentive platforms are really important for the successful motivation of the channel and are designed to provide incentive benefits to the reseller company but more especially to the sales representatives themselves this often takes the form of accruing loyalty points or reward points redeemable against the catalog also provided within the framework of the platform today I will be focusing my discussion on TCMA software TCMA software co-marketing platforms as they're known are essentially marketing automation tools designed with co-marketing in mind in other words they enable partners to co-brand with their vendors this is a very fast growing field vendors typically create a variety of ready packaged campaigns to suit the various types of partners and end user markets having these marketing campaigns ready loaded enables a vendor to have a velocity approach to getting partners to engage and launch marketing actions with minimal cost or work to themselves according to Forrester the TCMA software will grow to 1.2 billion dollars by 2023 at an annual compound growth rate of 25.2 percent they also predict that another 1.3 billion dollars will be generated in services at the same time all of these partner oriented technologies TCMA is the easiest one to be able to show ROI attempting through channel marketing without a platform is really hard and kind of nonsensical the platform is central to your program's marketing enablement of course many partners will choose to politely decline the offer of using your platform and this is for one of two reasons they don't want you to have or to see their data and maybe they also have a preferred platform in-house like HubSpot or Marketo in these cases the value of a third-party agency being involved in the process is that a trusted buffer is provided as a layer of trust and this is often sufficient to allow the reseller to collaborate and share data additionally I recommend developing a workflow to move data and knowledge in compliance with GDPR this will help you navigate the partner relationship more confidently and professionally if the reseller refuses to share data at any cost they may accept however to share the outcomes only the actual results of the campaigns without disclosing company names or contact names you should include these in your overall performance dashboards the results are very valuable even if they won't share the data and under GDPR sharing the data is a complex issue the biggest benefits of TCMA are that it provides you with the basis of a partnership collaboration platform that you can drive and most importantly it gives you this visibility of that channel pipeline despite the idea of being in a partnership both the vendor and the reseller usually work in silos but expect mutually beneficial results it's only when you actually invest time and effort at creating joint initiatives that you consummate the partnership and can really say that you partner together TCMA platforms provide this foundation for joint activities the investment vendors make in brand development and campaign strategy can become essential components in the business strategy of the reselling partner moreover partners can boost their business dramatically through this level of facilitation being able to deploy digital social and traditional campaigns within a GDPR sanctioned context and at an unprecedented speed of deployment a committed partner can launch a marketing tactic per week with minimal investment of time and without the need to invest in building up its marketing team beyond what makes sense to them this kind of activity inevitably means brand building for the partner and especially it means a significant influx of leads for the benefit of their commercial teams TCMA is considered best practice it is supported by the analysts and is now widely utilized by most major enterprises and smaller technology vendors are following through our organization was one of the first in the world to implement co-marketing as a structured process 20 years ago we have deployed these systems and procedures in some of the world's largest enterprises one example of a successful partner relationship management and through channel marketing automation is encased in our partner to partner ecosystem process or P2P ecosystems as we call it this case study looks at creating a holistic partner strategy to include non-transactional partners and specifiers when looking at your partner strategy it is essential to think beyond linear sales distribution in the early days of commercial sales channels the setup was very straightforward you would appoint a distributor a wholesaler right and you would run the majority or the entirety of your business of your reselling business entirely through them without any direct engagement with the resellers well that was fine for the earlier age of demand driven commoditized product movement today so much of the technology sector business is based on complex solution selling thus there has been an incredible development in the sophistication of channel strategy right at this point of inflection I had the privilege to engineer and execute a disruptive innovation in channel strategy for one of the world's largest computer companies encompassing software middleware and hardware the premise was that no matter how strong the brand might be your channel partners risk losing deals when close to the finish line because they're not sufficiently prepared and often had not considered influencers and specifiers which really form the broader partner ecosystem when selling into particular market niches this ecosystem of actors needs to be taken into consideration these include technical consultants business process consultants legacy service providers complementary software vendors and other kinds of trusted advisors the fundamental idea was this not to leave things to chance let us prepare cultivate the right relationships appropriate for each market niche and send a partner to the front line fully equipped and alongside an unbeatable partner ecosystem this way we turn potential opponents into allies from the get-go when business partners faced the final hurdle of the sales cycle in front of the cio or the data center director they no longer entered an arena with hope and doubt they went in with a certainty of delivering a silver bullet having the endorsement of those non-transactional partners that really count within that niche for example a hardware partner would be stronger alongside the industry's preferred software vendor and relied upon consulting voices within this non-transactional channel this was the birth of the concept of partner to partner ecosystems the next big step was to turn this idea into a repeatable scalable process for the idea to have the impact we wanted it had to be industrialized again TCMA systems really pivotal and foundational we started by building a database of possible complementary partners profiled it in depth and determining strengths weaknesses opportunities and threats for each one an algorithm was then then parsed them all to stack rank their suitability in relation to each one of the partners this electronic data processing approach enabled partners to be presented with the most suitable matches out of a database of maybe 10,000 companies it was like a matchmaking service a little bit like a dating agency a specialized partner marketing concierge would then facilitate a pairing conference call and when there was positive consensus they would then follow through and take charge of driving the relationship forward often new partnerships do not take off despite the initial enthusiasm because both parties both partners are very busy just running their business they don't have the time to take stock that's where a concierge approach is the difference between success and failure I cannot stress enough how critical it is for the vendor to work with an agency as a neutral third party through which to drive the new relationship the partner marketing concierge steps in to help formulate the joint business plan and holds both sides accountable for their portion of the inputs the initial objective is to harvest new opportunities from the collective initial install base particularly the install base of the partners and the consulting partners subsequently the concierge will help define the conjoined value proposition and launch several new customer acquisition campaigns these campaigns can be funded from marketing development funds MDF or through distribution contra revenue in general adding to the flexibility and ease of program deployment consider that this procedure opens up brand new greenfield revenue streams it allows vendors to use partner ecosystems to penetrate wide space this is extremely powerful when driven at scale and was unprecedented until the time that we launched it given that this is net new revenue it is easy to justify additional sales incentives to the partners sales incentives are an essential component partners should be incentivized to detect and declare new opportunities and they should have generous bonuses upon closing new deals we would base it on a 5% closing bonus on top of their regular margins at least TCMA is foundational in a program like this one but rewards and incentive platforms and deal registration they all need to be properly orchestrated partner to partner ecosystem building is such an effective and still overlooked strategy astonishingly so since it produces millions of dollars when correctly managed our company produced 500 million dollars of greenfield net new revenue business annually on this project with a team of only 30 partner marketing concierge agents as a technology vendor think ahead about what would form an exciting and dynamic partner ecosystem this will help elevate your partnerships to new heights hello everyone good afternoon and thank you for joining us today where we talk about our views and experiences on partner and channel development and of course thanks to you Alessandro and the rest of the Intersys team for inviting me my name is Martin Elzenar I'm the founder and CEO of the partner Pulse software platform and CTO the guerrilla corporation and I would like to share my view with you on how to create a solid collaboration strategy that can and should lead your channel automation efforts and I'd like to do that by changing some perspective on the broad landscape of channel automation out there and show how to derive a more durable strategy out of them by integrating some of the basic collaboration principles we'll also look at the alignment with brand values and how to create a more holistic partner development approach I hope you enjoy it and if you have any questions I look forward to speaking to you continuing on the different use cases that my colleague Carlo Breda highlighted and explained for sustaining channel strategy and the fact that these platforms are generally introduced as partner portals we often see that these tools are implemented in a top down manner and that they do not exceed the level of just trying to enhance efficiency summarizing the different channel software platforms again in a nutshell we have partner relationship management also known as PRM it's for sharing knowledge doing revenue planning and provide deal registration capabilities we have through channel marketing automation TCMA it's for standardizing and ramping up through partner marketing we have market development funding and reward incentive programs and therefore distributing marketing budgets and controlling bonuses the context or frames of how these software implementations are initiated and are being introduced is often quite singular and they therefore generate narrow insights on the selected areas in which they operate I recently read a famous industry report that clearly stated that companies that implement PRM software are often looking to reduce cost and improve efficiency in working with their reseller partners reseller partners implemented in this way these systems do not contribute to a very sustainable situation and we often see an ongoing process of integrations with other internal software tools combined with a continuing search for new and enhanced functionalities because of frustrations on the limited success rates and adoption of the toolset at the different stakeholders it may sound a little easy but it often lacks a real strategy or true purpose intention about what's actually desired to be achieved so we need to shift focus a bit why would someone sell your products most of the time you'll get an answer related to the features and benefits of the products or services our product has the best price packs the best design or our support is better valued but that does not answer the question why does someone sell your product according to multiple influential research firms including our own nearly half of the partners of a random partner network do not have a business plan to guide their priorities or operations and another half of them do not have a well-founded sales plan or revenue goals I know that for many of you this is not the first time you've heard this but think about it half of your partners do not know or plan how to establish the growth that you are seeking let's see what happens if we broaden the operating context of these software platforms a bit decades of research show that if you give people a hammer they will see everything around them as potential objects to hit helping to let go of these mental sets is therefore no rocket science only awareness of the functional fixation could be enough for example by simply changing the frame or the objective an assignment could change the result PRM platforms with their objectives for efficiency and knowledge sharing and deal registration could also guide partners into drawing up their annual plan with best practices for relevant organizational aspects founded on the individual partner characteristics rather than just offering bonuses for the number of sales incentives and NDF programs could also be used to recognize and reward satisfied customers or learn how to focus on how to get and shape the right deal for you the power of TCMA platform only really comes to its own when a campaign library is converted into a data-driven and substantiated advice on this is your best next step a partner portal is what it is but what matters is the core purpose of that system and the ability to communicate that purpose in an engaging way if set up and communicated in the right way the systems can then generate all the insights you need to exactly know why and when a partner should come and visit your portal so we need to redefine strategy throughout the whole partner life cycle starting in the recruitment phase three major aspects of engagement should be tracked logged and learned how to combine and these are capabilities activities and results if your partner support systems if your current partner support systems do not provide these data they are useless if you are not able or capable of combining the data into transforming them into meaningful insights competition will crush you and this may sound harsh but selling your products is not your core business making your partner successful is if someone else does a better job with supporting them they'll forget about you and go sell something else let's have a closer look at the different data sources of these three key aspects and why they matter so first of all capabilities they can be assessed during recruitment and onboarding and after that with channel development programs with external agencies with fun and smart gamification or even with automated web crawlers use these tools and store all input within measurable and multi-dimensional scorecards meaning that you have the possibility to take into account that attributes could be good in one situation but can hold you back in another second log all activities and actions that drive activities for and by the partner in relation to the different aspects of the scorecard you need this to plan agree and monitor progress these activity KPIs give clear and communicable expectations and goals and can later be used for comparison and generating blueprints and roadmaps for other partners and finally results what internal and external systems are in place that report on results number of leads prospects conversions deal size customer satisfaction team size training certification geos events it doesn't matter if you can't get the actual data make sure that you can get the mattresses because you need the data not just for revenue planning but to create insights and to prove ROI through the combination of these insights with the wealth of marketing information you as an industry expert can get access to you'll find out and prove what initiatives will generate what results under what circumstances and no gut feelings just empirical evidence this will be the basis of your partner support program and this will be the basis of your strategic automation and content planning focus your resources around these two key activities again strategic automation and content planning focus your resources around these two key activities because it's the start of a continuous learning cycle driving your internal focus areas and fueling your partner's success next step is to document these new best practices and transform them into manageable individually tailored and customizable action plans all initiatives progress and results can now be plotted on a dynamic and data-driven dashboard with heat maps and with flags and triggers on exceptions and successes remember data presented in an appropriate way highlights good information which leads you to excellent insights and intelligence that make your difference between success and failure let's talk about brand values a little bit and building them just like real humans your partners want to have the feeling of being heard make it your mission to make them feel confident and backed up when they inform their end customers about your products and services align your communication and your actions to that mission and start by accepting that the partner success that one partner success is your core business and that two partner support tools are more than just about efficiency and saving cost and three that automation needs a thorough alignment with company brand strategy to stay focused take extra care of this when dealing in international partner environments or expansion plans every country or region has its own market dynamics and cultural differences let your partner deal with these local relationships and let them be the local successful leaders so you can focus on creating an organizational no excuse environment for them with stability in marketing and sales this is the fundament of a durable partner ecosystem it's a circular and transparent framework with which you can lead your partners to success and stop to try and linearly push them into the direction that you want them to be we see hundreds of different tools promising the world but delivering poorly the all-in-one solution doesn't exist who claims they have that they simply lie together with our local expertise partners all over the world the team of partner pills is constantly working on developing new ways to drive local activity and how to build a performing channel network and especially today with COVID-19 spreading around the world it's a good moment to take the time to talk to your partners and engage in meaningful conversations about opportunities challenges objectives and strategies and it's your job to create the right group of people and technology around you to capture these discussions and transform them into tangible short-term action plans this was everything I had for today I'd like to thank you very much for your attention to finalize my session today I would like to walk through two of the most common business challenges that our customers are facing how they are affecting them and how we together with our partners try to help them with these and I'll finish up by presenting a couple of screenshots from reference cases to leave you with a better understanding of how it all comes together challenge number one is with the internal systems and processes digitization is changing everything it's going faster than your internal systems and processes can handle cloud changes everything but customer and partner expectations grow by the day especially these days with COVID-19 the pressure on these operational systems is enormous how does this affect you you get insufficient lead gen events and local campaigns and tardy processes to initiate them this results in the decline of qualified new leads second you do not have the salespeople regularly face to face with your clients anymore because of cost reductions digitization and simply not allowed to due to COVID regulations this results in internal processes not matching the customer needs and satisfaction and thirdly the struggle to keep existing customers loyal because of competition and a lack of insight and tools and resources to live up to the changing expectations this results in higher churn rates and lower margins challenge number two is about the urge and need to revamp your partners we hear this a lot and it's a very simple and clear one do I have the right partners bringing me the results that I need lack of effectiveness and visibility in capabilities activities progress and results resulting in a decline of sales and market share second not getting the right leads to the right partners and have the trust that leads are handled in the right way this results in misalignment in frustrations and missed sales opportunities and thirdly too much effort is needed to enable and motivate channels and you're constantly reinventing the wheel this results in disengaged partners and employees our goal is to elevate your internal processes and provide solutions that are responsive to them first we can provide cross-media marketing campaigns in a dummy-proof perfectly framed way so that your non-expert users both internally and at your partners can ramp up their marketing initiatives second we connect to all necessary internal systems and data sources to provide a user-friendly experience for all your customer and partner-facing activities this is one of the most important features of our platform and it boosts adaptability thirdly from out the different data sources we distill action plans and present that to your partners in a step-by-step playbook kind of approach revamping needs empirical evidence our dynamic scorecards are the basis or fundament of everything we do they have predefined and suggested content and we connect them to every data source that we can so that they can be as up-to-date as possible and automatically keep you up-to-date of changes if required the pipeline for deal registration and lead distribution can give you overview per partner per region or per account manager just as with the scorecard automatic triage and status updates make your life a lot easier and finally a versatile tool set for your partners for everything that is sales marketing or service related content sharing and syndication best practices a marketplace campaign tools training and events you name it but most important everything is linked to our scorecard so that you know what initiatives will generate what results under what circumstances finally a couple of screenshots here see the customized landing page for a local gym that logs into our partner portal providing all the need to know what is going on and how to access this like a personalized switchboard dozens of gyms in all countries use this on a daily basis to plan their marketing initiatives and to handle all in-gym communications connected to existing product database and CRM info this portal provides localized pricing methodologies with personalization per customer all online ordering is handled via the platform as is sending out personalized offers and discounts without the platform database connectability it would have taken years for Federigoni to revamp their existing systems now in just a couple of months we simply connected to them and provided local partners in all countries with the customer facing and tailored sales tools they very much needed Gamma Telecom is rapidly expanding their partner network all over Europe with standardized scorecards for the different countries they are upgrading their existing partner base and attracting the right new ones fully aligned with their strategic goals these new partners are provided with the right tools to learn to sell and market the new product ranges of Gamma Telecom this was everything I had for today I really hope I've inspired you to take the next step in your partner management and engagement I look forward to discussing your business challenges and to create a durable strategy and solution for them thank you very much thank you very much thank you very much thank you Martin thank you thank you thank you thank you for the U.S. for the motivation and I believe that you have in this field and especially for the European context that is what we have in the country it's we have in the country i contributi di Carlo e Martin capiamo che il partner non è più gestibile come una figura terza all'azienda come una figura sul territorio che deve solo dare risultati e vendere il nostro meraviglioso prodotto al nostro meraviglioso prezzo ma è sostanzialmente un interlocutore chiave da valorizzare non solo con le leve tradizionali di marketing ma anche con dei servizi più questo processo avviene più saremo in grado di ottenere il massimo dalla pletora di partners che noi abbiamo e siamo riusciti a reclutare per noi partner significa sempre contestualizzando nel mercato italiano rivenditori e distributori sostanzialmente hanno potere perché hanno potere hanno una posizione di forza perché rappresentano gli utenti e i loro clienti di un determinato territorio hanno in mano le relazioni sostanzialmente e hanno in mano anche il trust di queste relazioni conoscono molto meglio del vendor il settore contestualizzato nel territorio subisce delle delle variazioni delle sfumature soprattutto quando si parla di estero e sostanzialmente sono nazioni di potere perché molto spesso hanno ampia scelta rispetto alle aziende produttrici a meno che chiaramente la vostra soluzione voi come vendor non siate in qualche modo unici in termini di value proposition prodotto e servizio questo è auspicabilissimo sempre ma non è sempre così e nell'ottica del partner rivenditori per lo meno l'ottica di sostituibilità è un'ottica presente ok che ronza sempre all'interno della 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 loro visione del loro approccio di business però di contro questi hanno dei bisogni hanno sicuramente dei bisogni perché il mercato cambia il mercato evolve hanno bisogno di soliti prodotti altamente qualitativi hanno bisogno del prezzo hanno bisogno del servizio post vendita certamente ma cominciano ad avere bisogno anche di strumenti di marketing di strumenti di marketing che siano a supporto delle loro vendite hanno bisogno di rendere coerenti brand all'interno loro proposta appunto per continuare a risultare trusted quindi meditevoli di fiducia per il loro pubblico e sostanzialmente hanno bisogno di comunicare con voi quindi stabilire un contatto bidirezionale non one way voi verso loro con i prodotti e i prezzi ma anche loro verso di voi con uno scambio di feedback una circolarità di informazioni che gli facciano sentire sostanzialmente coinvolti nel processo e ingaggiati covid 19 stiamo affrontando delle sfide incredibili quindi la seconda tornata sta arrivando l'inverno abbiamo superato il primo momento in modo diciamo equilibrato non entusiasmante ma in modo equilibrato ci approcciamo ad affrontare una seconda fase una seconda fase in cui gli strumenti digital diventano degli asset per ristabilire quella che è una relazione di contatto con i nostri interlocutori sul territorio molto spesso prima vigeva l'abitudine di costruire eventi convention congressi banditi dal nuovo dpcm fiere non ancora bandite ovviamente tutte sotto protocolli di sicurezza ma sicuramente non frequentate quindi molto spesso quello che capita quello che sta capitando nella realtà italiana visto che stiamo contestualizzando questi argomenti nel nostro territorio è che le fiere vengono comunque organizzate ma i vendor ok sostanzialmente sono meno di quanti potrebbero essere perché non vogliono investire dei soldi per esserci sapendo che la clientela diciamo potenziale o comunque i visitatori sono nell'ordine di un terzo di quelli che erano prima o la metà quando va bene sta cambiando il meccanismo di relazione molte aziende non hanno mai investito in digitale negli anni passati se non per necessità impellenti quindi scarsa visione strategica alta visione tattica comprensibile oggi siamo di fronte a uno scenario che evolve e cambia e dobbiamo trovare delle soluzioni che siano compatibili con la cultura digitale quindi i bisogni delle imprese la cultura digitale delle imprese e dei budget che devono essere ovviamente dei budget che vanno educati non si può sicuramente entrare nelle imprese e proporre delle soluzioni impossibili full custom o estremamente difficili da costruire con tempi lunghissimi perché le imprese hanno bisogno di essere accompagnate quindi bisogna dotarsi sostanzialmente di nuovi modelli il partner sostanzialmente è il primo punto da cui partire trattare il partner come un limone da spremere o come un interlocutore a cui chiedere risultati senza creare una circolarità e senza interrogare i servizi torniamo alle slide precedenti sintetizzate è un errore trattare il partner come il centro di interesse fondamentale che rappresenta il proprio cliente sul territorio è la chiave per fare questo bisogna costruire attorno alla relazione del partner un ecosistema di servizi questi servizi si chiamano partner program quindi il partner program è una best practice quindi una serie di processi strutturati attorno ai bisogni del partner che l'azienda venda o l'azienda produttrice decide o meno di strutturare in Italia il 50% delle aziende che vengono attraverso un canale in intermediazione non hanno un partner program strutturato che cosa hanno? hanno però un order management cosa significa? significa che il 100% delle aziende che decidono di vendere attraverso un canale intermediato ok? quindi non hanno vendita diretta oppure alla vendita diretta abbinano una vendita attraverso un canale attraverso la quale generano la maggior parte delle revenues sostanzialmente hanno un software di order management che potrebbe essere un CRM adattato a un order management o un puro order management quindi un'area riservata dentro cui i partner logano e dentro la quale i partner ordinano cosa non hanno? il 50% di questi però non ha un partner program quindi non c'è questo servizio di order management supportato da una serie di altri servizi di marketing che in qualche modo vedono nell'ordine digitale l'ultimo touch point non l'unico touch point questa è la grande differenza trasformare quindi nell'ultimo touch point prevede di dare più valore a quell'ultimo touch point cercando sostanzialmente di impattare sulla qualità e la quantità dell'ordine che viene fatto in quell'ultimo touch point quindi investire sul click order dell'order management significa scusate costruire un partner program significa investire sull'ultimo click e sulla quantità e qualità dei click che i vostri partner sul territorio quindi i venditori e gli servitori fanno questo è quello in cui noi crediamo questi sono i numeri che Carlo e Martin ci hanno portato e sostanzialmente ci hanno convinto crediamo in questo progetto crediamo in adozione di questo strumento ma sono strumenti complessi quanto è stata complessa l'adozione del CRM 20 anni di inserimento di questi prodotti sul mercato inizio early adopters la curva è bassa si impenna verticalmente ma con numeri molto bassi perché le grandi aziende lo adottano sostanzialmente viene imposto dall'alto nella fase diciamo alla fine degli anni 2008-2009 verso il 2010 comincia ad essere capito come strumento nonostante abbia avuto moltissime difficoltà dal 2000 al 2010 e dal 2010 al 2020 prende piede anche nella PMI qual è stata la chiave in quest'ultimo decennio nella sua seconda vita di adoption e di utilizzo del CRM è stato il fatto che si è capito che si bisognava creare un trade off uno scambio un bilanciamento di valore di ritorno di valore tra quello che veniva chiesto ai commerciali e quello che veniva loro erogato in termini appunto di valore se mi chiedi le informazioni mi chiedi l'anagrafica dei miei clienti mi chiedi tutti i loro dati mi chiedi quante volte ci vado mi devi dare qualcosa in cambio perché io commerciale, venditore che ho in mano queste informazioni e sono il mio patrimonio sono il mio reddito sono il mio know-how sono il mio trust non sono disposto a barattarle per niente nel momento in cui le aziende hanno cominciato attraverso questi strumenti ad embeddare o comunque i vendor di questi strumenti hanno offerto alle aziende strumenti più strutturati e integrati di servizi ai loro venditori e quindi hanno detto dite ai vostri venditori che gli diamo le dashboard per monitorare gli andamenti in modo più facile invece che perdano ore sui fogli Excel che non sanno neanche utilizzare dite ai vostri venditori che qui dentro trovate i tutorial trovano i tutorial per migliorare la performance di vendita e vedere gli errori che vengono fatti dagli altri che vengono messi a fattore comune dite ai vostri venditori che invece di cercare in mille cartelle i documenti ed aggiornati o non aggiornati dentro quest'area documentale del CRM trovate tutti i documenti aggiornati dite ai vostri venditori che in quest'area trovate tutte le firme digitali aggiornate o tutte le brochure aggiornate i lanci di nuovi prodotti i nuovi bundle la gara per le provvigioni dite ai vostri fornitori e venditori che qui dentro trovate un set di servizi sostanzialmente che servono loro a perdere meno tempo nella gestione diciamo dei clienti e dall'altra parte ad avere più armi diciamo più frecce al loro arco per poter essere precisi e aggiornati e competitivi nella vendita nel momento in cui questo trade off si è realizzato bam il mondo di CRM è partito marketing express insieme a Gorilla ICT che opera in USA hanno dato vita a un prodotto che sostanzialmente già struttura al proprio interno questa economia di scambio e quindi eroga sostanzialmente un valore diretto ai rivenditori quindi ottengono i rivenditori attraverso questo portale vediamo questa slide ottengono visibilità c'è la possibilità di organizzare eventi in co-marketing e quindi sostanzialmente grazie al vendor che prestruttura determinati format di eventi da costruire all'interno delle aziende distributive e di venditori col proprio brand e magari anche con un budget di compartecipazione c'è tutto il mondo della formazione c'è il mondo delle gare per guadagnare punti magari di sconto su famiglie di prodotti c'è la documentazione condivisa ci sono le certificazioni ci sono le campagne mail materiali di preventa i nuovi lanci sono embeddati dentro funzionalità importantissime sostanzialmente da dare ai partner con un flusso di comunicazione che attraverso il mondo delle notifiche sostanzialmente avviene con una certa costanza per il produttore cioè per voi i vantaggi sono innumerevoli sostanzialmente si tratta di avere una piattaforma per cercare i partner quindi vi consente di attivare le proprie e vere e proprie fasi di partner recruitment e pre vendita nei confronti dei vostri futuri partner si possono gestire le campagne si possono visualizzare i loro comportamenti digitali sul materiale che voi gli mandate si possono centralizzare le informazioni di tutti i partner distributori e venditori quindi il controllo può essere diretto e semplificato attraverso un dashboard di analytics e reporting c'è una standardizzazione della comunicazione che viene strutturata una volta inserita una volta attraverso i vostri operatori di marketing interno questi partner program e questi portali sono spesso gestiti dai sales all'interno delle aziende quindi non c'è bisogno di fare investimenti di marketing aggiuntivi se non nelle agenzie come noi che in qualche modo integrano e sviluppano appunto servizi professionali di on top si accelerano le dinamiche di campagna di marketing del partner molto spesso si dice ma hai promosso? ma hai sentito? hai chiamato? hai inviato il nuovo prodotto? ma siamo sicuri che hai raccontato ai tuoi clienti il fatto che è uscito il nuovo caminetto o che è uscito il nuovo prodotto, il nuovo sensore? non lo sappiamo sì, non lo sappiamo in questo modo avremo delle dashboard più precise informazioni in realtà anche sui prodotti sui mercati e sui listini ritorno di feedback circolare con un'area feedback in cui anche i nostri partner ci raccontano cosa sta succedendo sul mercato sostanzialmente un reale supporto al sales sostanzialmente i deliverable sono quattro ok, c'è tutta la parte di setup c'è tutta la parte di configurazione c'è tutta la parte di abilitazione del partner ok, e partenza e poi successivamente c'è la parte di consulting e reporting i nostri progetti si costruiscono a trovare su queste quattro fasi noi stiamo lavorando a quattro mani con il nostro gruppo internazionale abbiamo marketing experts in Olanda abbiamo Gorilla ICT a Londra con la divisione UK americana e lavoriamo approcciando i progetti con queste quattro diciamo aree di deliverables molto concreta le fasi di implementazione sono legate alla fase di analisi la fase di implementazione e la fase di go live come detto prima, tutte fasi molto concrete che hanno a che fare con progettazione e co-design interna multi-stakeholder con il sales sempre al centro quindi chiaramente la tematica è questo tipo di progetto è un progetto di certo di marketing ma è orientato alla componente sales molto spesso noi ci troviamo di fronte delle buyer personas che sono delle personas sales che decidono di comprare questo tipo di soluzione perché ha un forte impatto sul canale e sulla gestione dei distributori e dei venditori per questo motivo la funzione sales deve essere dentro in tutte le fasi una volta che il sistema è attivo è il momento di integrare i partner sulla piattaforma utilizzare il sistema per gestire l'attività del partner program quindi si parte con un'idea di lancio di un partner program tre business case vi abbiamo apportato in modo molto concreto sto andando con un certo ritmo perché ritengo che i contenuti devono essere in qualche modo visti tutti senza perdere il focus su un obiettivo di approfondire potenzialmente nella sessione della settimana prossima anche in funzione dei vostri feedback tre casi abbiamo il caso Arag quindi sostanzialmente qui il tema era l'obiettivo era quello di incrementare i risultati del network quindi di agenzie noi avevamo una business marketer come riferimento quindi una persona di marketing orientata a risultati sales abbiamo utilizzato il portale marketing express portal assolutamente personalizzato sulle esigenze di lavoro della gestione di un canale come quello delle agenzie che è un canale molto particolare mondo servizi fedrigoni fedrigoni ha sostanzialmente avuto bisogno di un repository di informazioni che aggiornasse direttamente prezzi, listini e materiali di comunicazione a tutte le filiali del mondo ne vedete una rappresentazione qui anche con le immagini chiamate direttamente via API dai sistemi legacy dentro cui risiedono i cataloghi prodotti quindi sostanzialmente un PIM anche questo è stato un progetto di grandissimo successo Rigio Bank sostanzialmente collegato all'incremento dell'attività commerciale e quindi qui legato alle filiali con la capacità di avere un portale all'interno di ogni filiale che potesse aiutare i consulenti a derogare ai clienti le informazioni aggiornate rispetto alla loro proposta in modo alla proposta della banca in modo aggiornato molto interessante dal punto di vista comunicativo completamente standardizzato tutto questo per circa 550 filiali in giro per l'orario molto 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 importante questo progetto nell'economia dei progetti di marketing express quindi siamo arrivati alla conclusione perché implementare e automatizzare un partner program strutturato sostanzialmente per ottimizzare le operazioni migliorare la produttività dei partner autorizzare i dipendenti del fornitore a fare un certo tipo di operazioni perché ci sono tutta anche una serie di workflow all'interno multilivello fornire dashboard trasformare prodotti e modelli di business quindi sostanzialmente aiutare il cliente ad avere il nostro partner scusate ad avere modalità flessibili per poter comporre le offerte e provare a creare bundle per esempio prodotto o servizio per andare sul mercato è una piattaforma estremamente interessante anche per questo migliora il coinvolgimento aumenta la collaborazione anche vista la difficoltà adesso di entrare in contatto fisicamente promuove la fiducia agevola la comunicazione sostanzialmente quello che si è visto dalle attività che Marketing Express e Gorilla ICT hanno portato avanti in questi ultimi dieci anni sostanzialmente è quello di suddividere i partner in tires quindi abbiamo tire 1, tire 2, tire 3 normalmente il tire 3 è un tire con alto il numero di partners e basso il livello di produttività per partner quindi è un tire su cui lavoriamo interveniamo con delle strategie mirate il tire 2 è chiaramente il tire dentro cui ci sono maggiori opportunità di sviluppo dei partner perché stiamo parlando di un numero medio di partner che sviluppa un fatturato rilevante ma non fondamentale che chiaramente può essere committato meglio quindi qui dentro c'è il potenziale di partner che sostanzialmente hanno un mercato credono un po' nel nostro prodotto ma potrebbero crederci di più la sto facendo in modo molto sintetico ma per essere chiaramente esaustivo ci vorrebbe una sessione dedicata a questo tipo di analisi e la componente invece del tire 1 dove si concentrano il famoso 20% del partner o anche meno 15% che genera l'80% del fatturato in questo caso il 50% adesso ho voluto usare Pareto come metafora ma in questo caso siamo un pochino stati più realisti 50% del fatturato quindi diventa un tire strategico questo è un tire sicuramente da fidelizzare quindi di boost qui si può fare il partner boosting ma diciamo che qui il tema importante è la loyalty cioè non potremmo mai permetterci che parte di questo tire decida di vendere prodotti della concorrenza o prodotti diversi dal nostro dalle statistiche che abbiamo visto insieme sui clienti attuali e passati di Marketing Express, Intesis e Gorilla ICT vediamo che c'è sostanzialmente un incremento annuo che oscilla tra il 2,5 e il 7% di revenue non nascondo che il 5-7% sono revenue molto molto alte però diciamo che dal 2,5 al 5% sono revenue estremamente rilevanti che non solo ripagano l'investimento nel partner program e nel PRM ma generano sicuramente un valore aggiunto non banale nell'economia di relazione con la propria pletola di partner e distributore eccoci, buonasera a tutti la presentazione si è conclusa chiedo a Martin e a Carlo di tornare live con me, eccoli io sono orgogliosissimo ciao Martin, ciao Carlo, bentornati welcome back grazie 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 ha stato un'ottima Carlo e Martin thank you, thank you very much from Intesis Team io sono davvero molto contento credo che aver affrontato l'argomento del partner program e del partner boosting e partner recruitment strategy sia un argomento tendenzialmente nuovo per il mercato italiano siamo noi a raccontarlo tra i primi in Italia non ci sono competitors la vostra piattaforma è la piattaforma che in questo momento secondo noi garantisce la miglior modularità il miglior rapporto tra costi e benefici sappiamo bene che le piattaforme come diceva Martin prima sono piattaforme che integrano e embeddano la maggior parte dei servizi degli elementi che abbiamo raccontato nel nostro speech ma non sempre fanno bene questo lavoro Carlo, giusto? esatto esatto quindi sulla piattaforma Partner Pulse quello che noi possiamo dire ai nostri potenziali clienti comunque interessati e oggi partecipanti al webinar è che si possono creare delle modularità partendo da dei progetti pilota che vengono attualizzate direttamente sulle necessità del cliente e poi piano piano sale la complessità della piattaforma e il suo arricchimento a seconda di quant'è poi il valore di ROI di Return on Investment che il cliente stesso ha rispetto al pilota che abbiamo messo in piedi quindi non ci sono delle strategie di vendita di lock-in sui clienti c'è una strategia di crescita congiunta Martin we are speaking about the growing strategy and the growing roadmap that we can have on the platform so it's a growing roadmap with the client on behalf of his the value that comes back from the investment for him so we are not locking in clients you know we are like investing on them because they can invest on the partners and grow together and we can grow with them so questa cosa per noi è davvero davvero molto importante è evidente che bisogna fare il primo passo in chat Alex mi ha scritto un po' di messaggi molto interessanti li volevo spiegare le aziende che abbiamo su cui noi abbiamo lavorato che vi abbiamo esemplificato sono aziende che hanno soprattutto quelle europee fatto degli investimenti più bassi rispetto alle aziende che in US lavorano con Carlo che sono moltissime aziende del mondo ICT quindi che lavorano strategicamente sulla partner strategy appunto per diffondere il loro messaggio territorialmente anche in tutto il mondo in Europa i casi sono casi molto più all'italiana mi verrebbe da dire quindi casi più specifici più perimetrati da cui si è sempre partiti con dei pilota che sostanzialmente valgono delle decine di migliaia di euro non delle centinaia di migliaia di euro giusto per essere anche più specifico nella risposta non sono progetti fatti solo per aziende multimilionarie sono fatti per aziende innovative che credono che offrire servizi di marketing alla propria rete partner di partner sia un investimento in servizi appunto che poi si trasformerà in maggiori vendite per sé questo è in sostanza l'elemento chiave poi il tutto si realizza secondo noi attraverso un mix tra un commitment interno piattaforma e servizi professionali dell'agenzia partner e quindi questo è secondo me fondamentale chiaramente ripeto sono messaggi nuovi e messaggi secondo noi innovativi detto ciò io adesso volevo lasciare un attimino la parola allo spazio delle domande appunto dei partecipanti se volete scriverle in chat io sarò ben felice di girarle a Carlo e a Martin io nel frattempo ne ho una specifica per Martin che è Martin which is the main advantage of the partner pool's platform over the competitors quindi qual è il vantaggio il valore aggiunto principale di questa piattaforma secondo te rispetto alle altre piattaforme che sono presenti sul mercato internazionale è ok se answer il vostro question in inglese Yes Alessandra ok thanks d'accordo thank you i think i think i think i think there are four most important things to highlight for usbs the first one will be our unique partner health check approach This is three basic steps guided by our channel experts that focus the implementation on a direct result with the selected initial pilot group and this really ramps up an effective introduction to the rest of your partner base Second, definitely the partner scorecard We don't focus on Excel report systems or whatever We want to deliver our unique dynamic dashboard to you Showing what is going on in your partner network and what is not And you should know and you immediately know what your next best step is right from the start Thirdly, I would say it's the open attitude towards internal systems We don't want to create a new ICT monster in your organization We just want to make sure that you can utilize all your existing tools as much as possible So you can focus on results, right? And finally, it's very simple but I think very important The platform is built, hosted and maintained in Europe with a European cultural background and we're in the heart of GDPR Security and privacy is in the DNA of the platform and that is a real big thing these days Thank you very much It works It works In synthesis, Martin dice Capacità di adattare la piattaforma dal punto di vista dell'engaging e del reporting e dashboarding di tutto ciò che poi accade nel mondo partner che è sostanzialmente in mano nostra Non dobbiamo adattarci ad un progetto, ad una piattaforma che già ci dà delle sue logiche ci basiamo su quelle logiche e configuriamo in base alle vostre necessità quindi alle nostre necessità Non c'è un tema di architettura IT o di IT monster, come l'ha chiamato lui quindi di soluzione invasiva a livello di sistemi anche con i vostri IT interni perché il prodotto è assolutamente in cloud si gestisce assolutamente in cloud lo gestiscono loro per noi ed è sostanzialmente un prodotto che non porta complessità interna ai vostri dipartimenti IT che come sappiamo spesso rallentano o non favoriscono determinate logiche e il terzo punto è il prodotto è mantenuto intanto è stato creato, mantenuto e gestito in Europa quindi come sapete dal punto di vista GDPR siamo tra i continenti, anzi siamo il contenente più sicuro da questo punto di vista ed è evoluto tant'è che Carlo che lavora in US con divisioni in tutto il mondo però diciamo la genesi del suo successo e della sua value proposition è principalmente americana ha scelto un'azienda europea come ICT Partner per questa tipologia di servizio e prodotto giusto Carlo? Hai il microfono spento, hai il microfono spento Hai ragione, sì mi senti, sì esattamente, sì appunto dal punto di vista GDPR qua negli Stati Uniti cioè siamo molto più lasciamo passare molto più facilmente molto più la cosa molto più seria in Europa e per questo motivo siamo molto felici di lavorare appunto con con Martin e con voi all'Intesis Ottimo Carlo, un'altra domanda per te da parte di Valentina quali sono, te la leggo in italiano se puoi rispondere in italiano mi eviti la traduzione mi eviti la traduzione quali sono i primi passi che un'azienda che non ha mai investito in uno strumento come questo di partner recipe management deve fare per capire se questo investimento diventerà un asset in pratica qual è il return on investment di un investimento come questo quindi per il vendor mettiamo nei primi tre anni nella tua esperienza guarda, secondo me non c'è assolutamente alcun dubbio che l'investimento è un investimento redditizio la domanda è abbastanza complessa perché ovviamente abbiamo parlato di queste varie tipologie di posizione di questa tecnologia ci sta la tipologia PRM e la tipologia della TCMA o Through Channel Marketing Automation che sarebbe il lato campagne marketing sono due cose leggermente diverse a mio avviso il PRM ti dà un ROI molto molto veloce diciamo nell'ambito di diciamo un anno di sicuro perché però è un ROI diverso un ROI basato sul risparmio dei costi risparmio dei costi nel tempo di amministrazione della gestione del canale praticamente in grado di gestire il canale con meno persone in maniera più efficace e più efficiente dando anche poi frutto a una maggiore lealtà da parte dei partner nei tuoi confronti dal punto di vista TCMA invece il lato marketing là è molto interessante la cosa ti dà un ROI molto molto veramente ancora più veloce perché là si tratta di creare pipeline allora metti che hai 20-30 partner sul territorio italiano e metti che ognuno di questi partner comincia ad essere attivo e a rappresentare il tuo marchio con delle campagne mensili forse anche settimanali cioè il ROI te lo papi in tre mesi assolutamente perciò sì secondo me queste cose non sono ormai non sono più un'idea di una cosa innovativa da fare sono una necessità sono tecnologie importanti assolutamente necessarie anzi bisogna attivarle adesso perché nel futuro il futuro arriva il futuro ormai ci siamo il futuro sarà una cosa di robotizzazione dei servizi e intelligenza artificiale perciò dobbiamo avere effettuato questo primo passo nel mettere in atto il PRM nelle nostre società in Italia al più presto possibile e poi vorrei visto che ho ancora la possibilità vorrei ritornare alla domanda di Alex Valtellina per quanto riguardavano le aziende più piccole volevo giusto dire qua diciamo attraverso Gorilla sono passati tipo 1500 clienti dei 1500 clienti che abbiamo avuto forse 500 sono veramente le grandi grandi aziende che conosciamo come IBM, Microsoft eccetera però le 500 più piccole sono società molto molto piccole sono degli startup per esempio di Silicon Valley che sono venute a cercarci che magari fanno un fatturato minimo di forse qualche milione di euro neanche di dollari però anche loro hanno visto la necessità di implementare di creare un partner program serio strutturato e hanno visto ovviamente come ho visto che Alessandro ha detto la piattaforma ha costi bassi non è una piattaforma costosa però è essenziale essenziale perché ti dà proprio la struttura sulla quale poi puoi gestire una strategia di crescita del canale di distribuzione, di rivendita perciò sì, non ci sono società troppo piccole assolutamente no e ti cedo la parola Alessandro grazie Carlo super super davvero a questo punto se non ci sono altre domande non ne vedo io ragazzi dopo un'ora e un quarto vi ringrazio I thank you very much Martin really for your time for your help for your trust in the Italian market we are trying to do something new and we are really happy to have you aboard e successivi diamo appuntamento alla settimana prossima in cui io e Martin faremo un approfondimento sulla piattaforma con chi di voi è davvero interessato a capire quali potrebbero essere i primi moduli da attivare i primi starter path quindi i percorsi di partenza di pilot su cui potremmo concentrare determinati esempi ci sarà un livello di interlocuzione molto più diretto rispetto a questo che era una presentazione introduttiva quindi speriamo di vedervi la settimana prossima esattamente tra una settimana quindi giovedì 29 martin e i said that we are giving an appointment to next week to go deeper into the platform to see some modules in practice to see some demos live that we can do sharing our screen and answering questions direct questions to real cases that our prospects users and attendees can have to contextualize a little bit better our solution in their business cases and with their partners ok yes definitely looking forward to that actually ok thank you very much again then ok ciao carlo ciao martin ciao alessandro ciao a tutti grazie a tutti bye bye ciao grazie a tutti grazie a tutti